Favorire la conoscenza della letteratura degli autori del territorio e non solo, da Leonardo Sciaggia a Pier Maria Rosso di San Secondo, a Carmelo Pirrera, Luigi Russo e Luigi Pirantello e al contempo valorizzare le scalinate della città. Questo l'intento del progetto Scaletta, promosso dal Parco Letterario Pier Maria Rosso di San Secondo, Alchimia e dal Comitato Provinciale della Dante Alighieri di Caltanissetta. Uno dei progetti presentati nell'ambito del bilancio partecipativo del Comune che potrà essere votato online dai cittadini. È un progetto che volge alla valorizzazione del territorio, in particolare alla valorizzazione delle scalinate del nostro centro storico attraverso il coinvolgimento dei giovani e degli studenti tutti della città di Caltanissetta. Il progetto viene realizzato, concepito attraverso l'ufficio scolastico provinciale del nostro territorio per garantire a tutte le scuole di poter accedere a questa offerta culturale centrata sulla conoscenza del nostro passato, sulla conoscenza della nostra storia urbana. Le azioni che contempla il progetto sono sostanzialmente tre. La prima è l'adozione di una scalinata, la seconda è la conoscenza della stessa che verrà attuata attraverso un'azione di ricerca che vede coinvolti esperti del territorio e gli stessi studenti. La terza azione è la valorizzazione della scalinata a partire dalla conoscenza, quindi a partire dallo studio della stessa. Al termine del progetto è previsto un concorso fotografico con l'attribuzione di premi in denaro per ciascuna delle scuole che avrà partecipato al progetto. Per garantire l'attuazione di tutto quello che ho appena comunicato è fondamentale seguire due operazioni. La prima di queste è la registrazione presso il portale del Comune di Caltanissetta alla voce sezione bilancio partecipativo e la seconda di queste azioni è la votazione online che ciascuno di voi dovrà fare di questo progetto non appena il Comune di Caltanissetta avrà aperto la finestra temporale per consentire alla cittadinanza tutta di esprimersi rispetto ai progetti previsti nel bilancio partecipativo. Vi invito a votare, a votare.